Francesco come è andata questa esperienza del graffiti bike è stata una bellissima esperienza veramente siamo riusciti a attraversare tutta la città e insieme a uno dei ragazzi che ha realizzato queste vere e proprie opere d'arte abbiamo scoperto un po di più del mondo dei dei graffiti conoscendo la provenienza dei ragazzi conoscendo le storie che ci sono dietro tutto questo girando per la città in bicicletta che fa sempre bene. Ma come ti è venuto in mente di dare il via a questa iniziativa ricordiamo che c'è anche un punto biciclette in via Vico? Sì in via Vico 73 c'è l'hub che abbiamo realizzato facciamo officina, nolleggio e il fine settimana appunto tour guidati l'idea nasce dal mio ritorno a Caserta dopo tanti anni fuori regione ho visto che il cicloturismo si sviluppava sempre di più da Roma in su e quindi tornato a Caserta ho deciso di puntare sulle bellezze del nostro territorio non solo la reggia ma anche tutto quello che c'è oltre e di valorizzarlo in sella ad una bicicletta. Tanto è vero che non finisce qui perché oltre al graffiti tour c'è ci sono anche altre iniziative, ce le ricordi? Sì, di base ogni fine settimana organizziamo il sabato un tour turistico Caserta Vecchia e Belvedere con visita guidata all'interno del Belvedere e la domenica invece ci sono vari tour in giro per la provincia che vanno da Cagliazzo, usciamo fuori provincia arrivando a Santa Cata dei Goti o addirittura come domani Capua e la visita all'anfiteatro di Santa Maria Capovedere. Allora, chi vuole essere informazioni? Può trovarci in via Vico 73 a Caserta oppure trova tutte le informazioni sui social Ciccio Bike & Tour o sul sito internet www.cicciobikeandtour.it